Perdo un'attesa. Diamo il via al piano B. Ma se non hai neanche un piano A, Rio... Dottore Fischio! Chi è stato a uccidere mio fratello e perché lo ha fatto? Ci penso io. Dottore Fischio Sembra che agisca sul cervello e potenzi la forza muscolare del soggetto. Angel Dust. Una droga usata un tempo nelle zone di guerra. Quella ragazza è l'unica che è riuscita a rimanere sana di mente. Ti sta crescendo il naso? Lo so! È meglio per te se non guarda. Questa è gente senza scrupoli. Andiamo a vendicarci insieme. Uber Eats! Ti ha ordinato pollo fritto in agrodolce? Allora annulliamo l'ordine! Piano B! Ma se non hai neanche un piano A! Sono lo stallone di Shinjuku, Ryo Saeba. Allontanati. Gli ho promesso che ti avrei protetta. Io voglio combattere. Non male! Neanche tu. Come ci si aspetta da City Hunter? Il prossimo sei tu.